Mi chiamo Giacomo Smarrazzo e sono presidente di una cooperativa sociale, la cooperativa sociale ERA che sta lavorando da tempo nei servizi pubblici dell'ASRA Napoli 1 occupandosi di fragilità e di persone che hanno difficoltà, che comunque si sono impattate in difficoltà che siano di carattere sanitario, nello specifico la salute mentale, ma anche di persone che hanno avuto problemi o che si trovano in situazioni di dipendenza da sostanze o anche da alcol e in altre situazioni come per esempio anziani. Comunque più in generale la cooperativa ERA si occupa di fragilità con un interesse specifico che riguarda l'accesso ai servizi sanitari e quindi al diritto alla salute. In questo ambito la cooperativa ERA, poi io in particolare ho una storia mia che mi colloca tra coloro che per militanza hanno scelto di stare a fianco delle tante persone migranti che in questo paese, in questa città, in questi nostri territori sono venuti a vivere. Diciamo anche nell'ambito dei nostri servizi noi impattiamo questa realtà e quindi abbiamo assunto una sorta di consapevolezza chiara che intanto le persone sono persone e in quanto tali hanno la necessità di essere ascoltate e assecondate negli bisogni che si esprimono. Un migrante è una persona intanto e non è semplicemente un'etichetta, un colore della pelle o un problema, ma è una persona come tante altre che ha bisogno di assistenza sanitaria, ha probabilmente necessità di accedere a servizi del lavoro, ha bisogno di accedere a servizi scolastici, di imparare la lingua e cioè ha bisogno di essere inclusa in questa società che di fatto, di fatto per scelte economiche, per scelte di governo più generali, ha continuato ad escludere, ad escludere e non è riuscita mai a creare barriere perché le barriere non si possono creare. E quindi da questo punto di vista noi puntiamo ad avere un approccio di questa natura che è multidisciplinare e che affronta le problematiche delle persone più fragili che vivono la nostra comunità. In questo ambito anche il premio che oggi è la seconda dizione del premio Rossano penso che sia molto importante intanto perché nasce, che mette, come dire, ricorda a noi la memoria di una grande persona, Fausto Rossano, che è stato un faro per molti di noi anche perché qui è riuscito ad inculcare, a diffondere una cultura che è esattamente quella cioè dei diritti e delle persone al di là degli stigmi. Noi tutti proveniamo anche un pochettino dalla filosofia di Basaglia, della riforma, abbiamo lottato perché venissero chiusi i manicomi e che si affrontassero alle fragilità e le problematicità per quelle persone, non reclutendo le persone, non reprimendole ma confrontandosi con loro. E tutto questo ha bisogno di uscire, di uscire fuori dai nostri ambiti, ha bisogno di uscire fuori dalle nostre specificità, le nostre nicchie, ha bisogno di uscire verso la comunità perché noi siamo convinti che il nostro lavoro non è soltanto utile alle persone che trattiamo quotidianamente o a noi stessi ma è utile alla comunità perché migliorare il livello di relazione, migliorare le condizioni delle persone più fragili di questa comunità di fatto ritorna utile a tutta la comunità. Non solo perché facendo così si riducono e non si aumentano i costi per la collettività ma perché così si migliora ancora di più il livello di convivenza e anche, secondo me, il sistema di relazione e quindi lo sviluppo economico.